ciao sono leonardo raso della lr immobiliare oggi ti presento un appartamento in vendita nel quartiere montesacro a roma in via dei prati fiscali all'angolo con via valdala l'immobile è ubicato all'interno di una palazzina edificata nel 1965 dotata dal riascensore e senza servizio di portineria attraverso la porta di entrata accediamo all'ampio ingresso dell'appartamento dal quale è possibile entrare nel soggiorno piano una scelta diretta sul balcone vivibile dell'immobile attraverso un ampio disimpegno si accede alla cucina abitabile e alla zona notte l'ampia camera matrimoniale dalla quale è possibile anche da qui uscire sul balcone e il grande bagno dotato di finestra abbiamo visitato un interessante appartamento di circa 75 metri quadri attualmente in uno stato tale che ne richiede una completa ristrutturazione ma in occasione di questa ristrutturazione l'appartamento può essere sviluppato in un tri locale nel senso che attualmente appunto è composto da un ampio salone e una camera matrimoniale con cucina abitabile e invece può essere tranquillamente creata una camera singola in aggiunta all'attuale camera matrimoniale l'immobile è immediatamente disponibile ed è obbligato all'interno di un palazzo che in questo momento è oggetto di una ristrutturazione della facciata con super bonus 110% la vendita catastale è di 879,57 euro la proprietà è persona fisica e non è soggetto fallibile la classe energetica è la G e la categoria catastale è la A2 per vedere foto, video e planimetrie di questa interessante opportunità immobiliare puoi consultare il nostro sito www.lrmobiliare.it oppure tutti i nostri canali social LR Immobiliare è la tua casa in buone mani www.lrmobiliare.it oppure tutti i nostri canali social